non funziona non funziona vorrei solo comunicare con i miei clienti non ci riesco impossibile tutti lo fanno ciao sono cristian tava di in due parole sono il tuo angelo custode due soluzioni da proporti la prima che ti affidi a delle agenzie professionali di comunicazione come siamo noi e la seconda è che formi il personale interno ho capito tutto quindi posso avere dei professionisti che formano i miei dipendenti o due parole magiche formazione finanziata con i fondi interprofessionali i tuoi dipendenti possono partecipare dei corsi di youtube instagram facebook per migliorare la comunicazione renderla efficace professionale senza costi interessantissimi pensavo che fosse solo per i corsi della sicurezza del lavoro no no parliamone raggiungimi in ufficio ciao ma perché nessuno me l'ha mai detto vado subito ciao ciao ciao